Torna il premio di letteratura naturalistica Parco della Maiella che vedrà il Clou sabato 23 luglio ad Abbateggio con la cerimonia di premiazione. Presidente di giuria sarà Lapo Pistelli, ospite d'onore della manifestazione Paola Gasman. L'evento è promosso dall'Associazione Alefalde della Maiella in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso di sviluppi e approfondimenti. Questa mattina la presentazione ufficiale della venticinquesima edizione. Quando abbiamo pensato il progetto premio Maiella pochi credevano alla letteratura intesa come quella vocata a trattare le tematiche ambientali che poi doveva essere come dire presentato al nostro concorso e quindi essere valutato. Questo invece ha dimostrato in questi 25 anni il nostro progetto, un progetto importante, solido, credibile, che ha visto vincere tantissimi autori da ogni parte d'Italia, autori che hanno prima partecipato al premio Maiella, evidentemente a volte anche vinto il premio Maiella e poi hanno vinto il campiello e lo strega. Quindi è veramente di buon auspicio ma non solo dal punto di vista dei concorrenti ma anche per la nostra regione, per il nostro parco, perché tramite il premio Maiella si è conosciuto anche un territorio che prima non si conosceva. Io tra questi che più hanno calcato il palco del premio Maiella ricordo Dacia Maraini, Grazia Francescato, Pintor, Giorgio Celli, ma così come Paolo Rumiz, Mauro Corona, insomma sono stati tanti coloro che hanno avuto in questi anni la possibilità di cimentarsi con il premio Maiella.